Abbiamo bisogno della Dea Rita Gross, 1943-2015, studiosa americana di religioni, dice Abbiamo bisogno della Dea perché essa spezza gli stereotipi del femminile liberando in tal modo le donne dai limiti impliciti in uno stereotipo dato. Le donne possono essere al tempo stesso forti e belle, femminili e guide sapienti, madri e partecipi di una cultura. Se la Dea ci offrisse solo questo sarebbe già abbastanza, ma sembra che essa apporti molto di più. La Dea completa l'immagine di Dio e apporta la totalità. Commento Per i maestri immateriali noi abbiamo bisogno della Dea e del Dio esattamente come abbiamo bisogno di incarnarci una volta come donna e una volta come uomo a seconda delle nostre esigenze evolutive. Osservata da una verità molto più elevata, ogni distinzione è peggio, ogni gerarchia tra uomo e donna è del tutto illusoria. Inghilvati Inghilvati Grazie a tutti